Sono 1.348 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 21.978 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza sale al 6,1 mentre nella giornata precedente era al 5,3. La Sicilia resta sempre al primo posto per nuovo contagio giornaliero seguita a distanza dall'Emilia Romagna con 721 casi. Gli attuali positivi sono 28.130 con un incremento di 5 casi. I guariti sono 1.322 mentre si registrano altre 21 vittime che portano il totale dei decessi a 6.413. La Regione Sicilia comunica che i decessi dichiarati in dato di Erna si riferiscono ai giorni 8 e 1 settembre, 12 e 31 agosto, 3 e 29 agosto. Sul fronte ospedaliero sono adesso 957 ricoverati, 10 in meno rispetto alla giornata precedente, mentre nella terapia intensiva sono 115, 3 in meno rispetto alla giornata trascorsa. Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente. Palermo 131 casi, Catania 353, Messina 353, Siracusa 204, Ragusa 108, Trapani 115, Caltanissetta 32, Agrigento 51, Enna un solo caso. Intanto si procede con la campagna vaccinale preventiva da parte delle ASP di Agrigento, direttamente nei luoghi più frequentati della città. Ieri e questa sera, dalle 19 in poi, presso il chiosco di Porta di Ponte, un camper dell'ASP con un'equipe medica sosterrà nella piazza per effettuare i vaccini. Domani, domenica, il camper con i medici andrà in diverse scuole della città per dare modo agli allievi, ai genitori e alle persone abitanti in loco che non l'hanno ancora fatto di potersi vaccinare. Le scuole interessate sono il liceo scientifico Leonardo, il liceo classico Empedocle, l'istituto professionale Fermi, il comprensivo Anna Frank, dalle ore 10 in poi. In merito abbiamo sentito il dottor Carlo Collura dell'Hub vaccinale di Agrigento intervistata dalla collega Rena Minisenda. Ci siamo spostati nel territorio per permettere alle persone che hanno finora avuto difficoltà o in qualche modo non hanno avuto la possibilità di accedere ai nostri hub, ai nostri centri vaccinali, per offrire appunto un servizio che riflette esattamente il modus operandi del Palacongressi. Ecco, quanti giornate sono previste? Attualmente abbiamo, siamo partiti con questa prima fase, con due giornate, quindi dedicate al weekend, al venerdì e al sabato, quindi domani avremo, metteremo a disposizione il nostro centro vaccinale qui a Porta di Ponte, quindi con lo stesso orario che va dalle 19 alle 23.